Ok, i condotti, madonna, speriamo che non sia una roba tipo Dead Space che saltano fuori da league dei condotti, madonna, non mi andrebbe No, no, sembra davvero una cosa i Dead Space, soltanto che i condotti sono 40.000 volte più grandi di quelli dell'Ishimura No, no, ma che quelli dell'Ishimura non scherzano, c'erano i condotti con cui posso farci dentro addirittura una casa Vabbè, ma rimaniamo sul tema del gioco, non mandiamo soltanto il gioco, ok? Vediamo un po' Squadra K, un nome più carino? No, eh Madonna, cos'è quella roba? No! No, no, merda, adesso se la prende con me, aiuto! Mamma mia, ma hai visto quanto è grosso? Mamma mia! Vieni! Ti ammazzo! Madonna! Ah, mi è mancato! Dai, provaci! Oh, ma, madonna! Ah, mi è mancato ancora! Madonna! Questa è la merda, madonna! Mamma mia, che puzza! Dai, è mancato, mi è mancato! Forza, è più veloce mia donna! Ahia! Forza! Ahia! Ecco così impari! Madonna, mi ha tirato un cazzotto bestiale! Madonna! Minchia, però, minchia, prima con la prima... Minchia, l'era merda! Minchia, cacciata una tirana scorenja, porco giuda! Ma avete visto, fischia! Mi ha fatto tremare anche la telecamera! No, meno mai non mi è rimasto l'odore addosso! Che fortuna, non hai un graffio! Aaaaah, spiritoso! Che figata svarai! Nelle costole! Ne provo qualcuno, aspetta! Ma in car... Eh, vado a cuoce quel cadavere in mezzo alle palle! Ci andiamo, va! Ah! Questa è Persepio! Tranquillo, Manson! Tranquillo! Massimo! Prendete questo! Umaggio della casa! Olè! Questo è un massacro totale! Mettetevelo in testa, chimera! Non mi sconfiggerete mai! E la madonna! Che bombardamenti, cazzo! Ci penso io col farai! Non preoccupatevi, ragazzi! Allora, una cosa alla volta! Guardate che mira, ragazzi! In testa, eh! ZAM! Aia! Stronzo! Questa me la paghi! Sì, ma dai! Ma quanti cacchio sono? Dai da guardare! Mamma mia! Quanti! Olè! Ma come volano via! Ciao, ciao! Bomba in arrivo! E vai! Così si deve fare! Abbiamo compagnia! L'ho visto, l'ho visto! Che ha ciao! Ho sentito! Ha 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 ! Ha 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 ! Madonna Mi dimentico sempre di queste bombe Cacchio, sono belle cose Cacchio, non possono attraversarla Cazzo ridi, coglioni Cazzo t'ammazzo Cazzo ridi Non c'è possibile, non voglio ridere Ancora Ecco, mamma mia che c'è Chi se ne frega Come chi se ne frega Non sai chi sono io Ma io t'ammazzo Oh la madonna Quanto devo spararti per un figlio Ma non è Oh Oh Ma grazie Sì che pensimi, non ti preoccupare Addosso Ornuto Andiamo a fargli male Basta con queste pantegane Ma che ballo Grazie Ci penso io Occhio ragazzi Guardate cosa faccio Prima via te che non sei simpatico Oh, guardate cosa faccio ragazzi Boom Attenzione Uh, bella questa Cacchio Avete visto ragazzi Forza ragazzi Andiamo E' libero E' libero Ci siamo? Dai ragazzi venite Scusate Scusate Eri qui E' aiutarci No Aspettavi che arrivava cosa Natale Allora ti dovrei dare il fucile in testa Va Dov'è il rapporto? Ah eccolo qui Uh, punto abilità acquisito Topo di biblioteca Modestamente Tenente Cartwright Signore Se sei venuto per combattere Sei nel posto giusto Pare che i chimera Non si stiano limitando A scavare tunnel Ah si? Ma guarda Chi ha portato lo Yankee? Ah 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 All'epoca si era già sparsa La voce delle imprese Di Yale a Manchester Tuttavia Cartwright Non era il tipo Da farsi impressionare Soprattutto da un americano Se un italiano invece La scuola di Cartwright Aveva trovato qualcosa di sospetto I chimera non stavano solo costruendo tunnel Ma stavano dissotterrando qualcosa Allora ci parve solo l'ennesimo mistero dei chimera La nostra priorità era ostruire i tunnel Ma magari stanno cercando l'oro Non credi? Ma